Proseguiamo invece con le nostre chiacchierate con i nostri ospiti. La seconda ospite parla di un tema che spesso viene visto come marginale, purtroppo ne parleremo con lei, è una filosofa, scrittrice e ideatrice del progetto Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro Tlon, doveva essere proprio sul palco di TEDxVicenza Binario, quindi Dona era una degli ospiti dell'edizione di quest'anno, ci abbiamo tenuto tantissimo ad averla, anche se abbiamo appunto solo posticipato l'evento e noi speriamo di poterlo ancora fare, ma ci tenevamo comunque a parlare con lei oggi. Una parte importante del suo lavoro è focalizzata anche nella ricerca interiore. Benvenuta, Maura Gancitano. Buona giornata, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie mille per essere qui con noi, abbiamo appena concluso un po' di riflessioni sull'economia, che è un tema che in momenti come questo, ma in generale, è molto protagonista, perché giustamente ha la sua importanza. Purtroppo invece la filosofia, per quanto sia molto importante, non viene percepita allo stesso modo, viene ritenuta un po' marginale. Seguiamo i target di fatturato, tutti questi dati, però non sappiamo più perché lo facciamo e definiamo, come sottolineava qualche giorno fa Galimberti, abbiamo fidato la nostra identità al nostro ruolo lavorativo. Per cui in questo momento particolare di lockdown ci siamo trovati tutti appunto a casa, in difficoltà anche per capire un po' anche noi stessi. Ci siamo trovati proprio impreparati tutti quanti di fronte a questa crisi e abbiamo perso di vista, secondo te, sottovalutato o non riusciamo più a vedere determinate cose? Ci manca un po' un occhio filosofico? Sì, certo. Questa è una tendenza che in realtà abbiamo da un bel po' di tempo, solo che in questo momento credo che stia diventando davvero urgente recuperare un punto di vista filosofico, che ha a che fare sia con il ragionamento e in una società così complessa, con fenomeni globali, perché questa pandemia probabilmente è la prima di altri fenomeni, e quindi ci troveremo nei prossimi anni ad affrontare probabilmente altre situazioni del genere, cambiamento climatico, altri fenomeni che si devono affrontare insieme. La filosofia è necessaria per creare un ponte tra varie discipline, quindi per cercare di comprendere questa complessità e anche per capire, per dare un senso a livello personale. La filosofia si muove su binari differenti, nel senso che può aiutare su tanti livelli, a livello individuale, come fioritura personale, come cura di sé, perché la vocazione originale della filosofia era proprio la cura di sé, all'interno della quale c'era anche la conoscenza di sé, il conosci te stesso. Quindi può aiutare a recuperare il senso, la vocazione e la direzione della propria vita, quindi anche il proprio sistema di valori, che in questo momento è importante, come una bussola per capire dove si sta andando, e può aiutare nella comprensione di quello che accade invece a livello globale, a livello collettivo. Per esempio, nel caso dell'economia, della medicina, della tecnologia, a riportare, come dire, a fare una riflessione di fondo, a fare una riflessione sulle fondamenta di queste ricerche, di queste pratiche, e soprattutto a non dimenticare l'aspetto etico. Quindi fare una riflessione sulle conseguenze a lungo termine, su dove si sta andando, e poi sull'etica di quello che si fa, che è estremamente importante. Quando si parla di fenomeni globali che toccano miliardi di persone nel mondo, l'etica non può essere marginale, quindi deve essere la base di questo. Negli ultimi decenni invece la filosofia ha sembrato, come dire, un po' un intrattenimento, un aspetto puramente speculativo. Invece è centrale, quindi in questo momento la filosofia può essere, e lo è già, perché in realtà tante persone se ne stanno accorgendo, filosofia dell'economia, filosofia della medicina, filosofia della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Quindi questo tipo di riflessioni ci sono sempre di più, e io mi accorgo che è vero, tante persone resistono a questo tipo di riflessione, però ce ne sono tantissime altre che si rendono conto di quanto sia fondamentale la figura del filosofo e della filosofa all'interno di qualunque tipo di think tank, di tavolo di riflessione su questi temi. È veramente necessario, perché la filosofia è prima di tutto una pratica di pensiero, quindi ti aiuta a riflettere su quello che sta accadendo oggi, a creare dei ponti e a immaginare il futuro. Che è quello di cui abbiamo proprio ancora più bisogno in questo momento, no? Quindi magari si spera anche di recuperare il tempo perduto, visto che, come dicevi tu, giustamente sta anche aumentando un po' la consapevolezza in tante persone dell'importanza in realtà, della filosofia e di quanto ci può essere utile, no? Proprio, dicevi, è importante avere una bussola, perché effettivamente tutti noi e in generale, proprio anche la società, il mondo economico, negli ultimi vent'anni ci siamo sentiti molto in una corsa, no? Forse è nata, senza avere magari ben chiaro dove stavamo andando, sia come persone, appunto, che come società in generale, e questo stop forzato ha segnato un po' una discontinuità. È la famosa, diciamo, società della performance, di cui parli tu con Andrea Colamedici, proprio in Tlon, soprattutto, che ci ha portato ad essere come persone anche sempre concentrati su la corsa, le cose da fare, gli obiettivi, senza avere magari il tempo di fermarci per dire, ok, ma perché sto facendo questa cosa? Ha davvero senso per me. In questo momento di lockdown, molti si sono trovati a pensare magari a come ridisegnare la propria vita, ad apprezzare uno stile di vita diverso, pur nella costrizione, appunto, dei limiti della propria libertà. Secondo te, ci porteremo un po' questa nuova consapevolezza, o ci sarà una nuova normalità, oppure torneremo a correre come più di prima? Abbiamo già anche dei segnali, magari, sullo smart working, ad esempio, che non sempre è proprio smart, tutta una serie di cose su cui c'è tanto da lavorare. Secondo te, una nuova normalità così? Allora, io spero che non torni tutto come prima, perché in realtà la situazione di fronte alla quale ci siamo trovati è una situazione che c'era stata preannunciata dagli scienziati, dai sociologi, dagli storici. In realtà, il Covid ha accelerato un processo che era già in atto da decenni, quindi c'erano tanti campanelli di allarme che non sono stati ascoltati, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica. Quindi, che cos'è che abbiamo fatto, in sostanza? Come dicevi, abbiamo rincorso la performance ed è qualcosa di cui non dobbiamo sentirci in colpa, dobbiamo solo renderci conto del modello culturale in cui ci troviamo, del modo in cui la nostra società è organizzata. Quindi, la nostra società ci spinge, fin dall'inizio, a correre, essere produttivi, non fermarci mai, e cercare sempre di dimostrare agli altri quanto abbiamo successo, quante cose abbiamo fatto. Questo sta accadendo anche in questo momento. Quindi, un momento di emergenza, uno stato di eccessione come quello che stiamo vivendo in questi mesi, dovrebbe aiutarci invece a riconfigurare tutto, a capire qual è il nostro sistema di valori, la nostra direzione, il senso di quello che stiamo facendo. Ora, dove il senso è qualcosa che si costruisce. Quindi, non è qualcosa di, come dire, di assoluto, quindi non sono dei principi che devono essere validi per tutti, ma è un processo che si innesca nella persona che è favorito dalla società, attraverso il quale la persona capisce qual è il senso di quello che sta facendo e capisce se quello che sta facendo è in linea con lei oppure no. Invece, cos'è che succede oggi? Succede che devi immediatamente capire qual è la strada che fa per te, trovare un binario e seguirlo senza muoverti mai. E questo è estremamente limitante ed è estremamente distante da quello che siamo noi come soggettività. Cioè, l'essere umano non può seguire lo stesso binario e andare, come dire, percorrerlo dritto fino alla fine della propria vita. L'essere umano è fatto per i labirinti, per il movimento. Solo che noi non abbiamo questo spazio, non abbiamo questo spazio di libertà. La società della performance, e questa la filosofia ce lo dice da secoli, almeno dall'ultimo secolo, con Marx, con Foucault, con Guy Debord, ci dice che stiamo diventando sempre più, sempre meno liberi. Quindi tutte le nostre scelte sono sempre più controllate. Gli algoritmi in questo senso vengono dopo. Ma noi diventiamo sempre più legati ai condizionamenti sociali. Quindi al modo in cui ci viene detto in maniera non così aggressiva, ma in maniera costante, anche questa epidemica, ci viene detto come utilizzare il nostro tempo libero. E che cosa ci accade oggi? Che questo tempo libero deve essere utile, deve essere messo a frutto. Quindi abbiamo tantissima paura nei confronti di quello che ci sembra tempo perso, cioè il tempo vuoto. Ma il tempo vuoto non è tempo perso, è tempo di riflessione. E anzi, è un tempo estremamente prezioso. Io mi sto accorgendo in queste settimane che anche i ragazzi e le ragazze che stavano per fare l'esame di maturità, che sono in quinto, ho parlato in tante scuole di questo, via ovviamente telematica, però mi hanno chiesto di fare molti incontri con le scuole, proprio per aiutare a una riflessione su questo. La sensazione di questi ragazzi e ragazze è di trovarsi di fronte a tempo perso, di dover aspettare che questa cosa finisca per tornare come prima. Ma non può funzionare così. Perché appunto noi ci troviamo di fronte al risultato di una serie di azioni che abbiamo messo in atto dalla rivoluzione industriale in poi, ma soprattutto negli ultimi anni, da quando ci è stato detto che il cambiamento climatico cambierà le nostre vite, che questa corsa ci sta rendendo tutti più ansiosi, sta creando una serie di patologie psicologiche che non c'erano, ci rende più infelici. Noi siamo andati avanti imperterriti e oggi ci ritroviamo con questo stato che dovrebbe essere di riflessione, ma che ci fa troppa paura. Cos'è che possiamo fare? Possiamo intanto parlare di questo, quindi raccontare questa paura, raccontare la difficoltà che abbiamo nel vivere un'ulteriorità, l'ansia che abbiamo di dover costantemente performare e dimostrare che siamo felici, che abbiamo successo, che siamo performativi e cercare di capire quale può essere la soluzione. La filosofia può aiutare, di nuovo, sia a livello personale, perché originariamente, io mi rendo conto che chi, come dire, che l'idea comune di filosofia è una roba noiosa, che è solo imparare a memoria quello che hanno detto Kant e Hegel. In realtà la filosofia, originariamente, e tanto nel Novecento, è una pratica, quindi ha a che fare con degli esercizi concreti, che possono aiutare a comprendere la propria vita, a cambiare atteggiamento, mood, proprio mindset, diciamo. La filosofia ha originariamente a che fare con il mindset con cui affrontare la vita, con la costruzione del senso della propria vita. Quindi può aiutare in questo senso, può aiutare molto, e io vedo anche molte connessioni con la psicologia. La filosofia non è psicologia, quindi non può parlare di certe cose e portare avanti un rapporto con le persone, come lo fa la psicologia, però ci sono delle, si possono potenziare a vicenda, secondo me. Quindi la filosofia può aiutare quello che io chiamo appunto percorso di fioritura personale. Poi invece a livello collettivo la filosofia deve aiutare, deve mettere appunto, deve mettere, evidenziare l'aspetto della performance. Cioè se noi torniamo adesso alla stessa realtà di prima, in cui prima di tutto in un'azienda la cosa importante sono il profitto e il fatturato, e quindi ci dimentichiamo delle persone, ci dimentichiamo del coinvolgimento, delle emozioni di queste persone, allora in realtà non abbiamo tanto futuro davanti. Perché quel modo di pensare, l'aspetto, il modello gerarchico di lavoro, l'aspetto del lavoro in cui si controlla il dipendente per vedere quante ore lavora, in cui non ci interessa quanto il dipendente è coinvolto, quindi anche l'ambito delle risorse umane in cui quello che mi interessa è solo la produttività e la quantità di lavoro, quell'aspetto lì non è più sufficiente. Cioè non è, se prima era viziato da tutta una serie di aridità anche a livello emotivo, adesso non sarà più sufficiente, quel modello non funziona più, bisogna veramente cambiarlo questo modello culturale, rimettere al centro la persona, quindi sia nella propria vita, rimettere al centro gli spazi vuoti e la sacralità, dove sacro è qualcosa che ti puoi appunto, che puoi configurare da solo, quindi non è di nuovo religioso o posto in senso assoluto. Se questo è importante, quindi questo momento ti può portare a rivedere e ricapitolare alcune cose della tua vita e capire qual è la direzione futura e immaginarlo questo futuro, dall'altro in ambito lavorativo, socio-economico, bisogna rimettere a centro la persona e rendersi conto che anche quando si parla di economia, di finanza, di lavoro, di impresa, si parla di persone. Quando ci si riunisce, si fa una riunione e per decidere una strategia estremamente tecnica, si parla di persone, le emozioni di quelle persone, i loro vissuti, il loro coinvolgimento non sono in secondo piano e anzi, se tu attivi quel coinvolgimento, soprattutto di fronte alle persone che sono portatrici di caratteristiche che in questo modello sociale vengono esclusi o messe da parte o discriminate, per esempio le donne che hanno più difficoltà ad alzare la mano e esprimere i propri talenti a livello di impresa, tu in realtà sblocchi tantissimo potenziale immaginativo, cioè questa cosa aiuta nel pensiero creativo. In questo momento sbloccare il pensiero creativo è estremamente importante perché dobbiamo riuscire a utilizzare tutte le conoscenze che abbiamo, le capacità che abbiamo con un nuovo modello. Quindi questo non significa smettere di fare ricerca scientifica o tecnologica, anzi, però la ricerca tecnologica oggi deve tenere conto di fattori che sono per esempio quelli dell'agenda 2030 che prima erano marginali, quindi deve tener conto dell'etica, deve tener conto della sostenibilità ambientale, della rappresentazione di genere, della rappresentazione di altre caratteristiche rispetto a quelle che di solito vengono utilizzate per esempio per costruire dei prototipi. Quindi si tratta di utilizzare, di non demonizzare la tecnologia, i dati, gli algoritmi, ma anzi di utilizzarli in un senso etico. Quindi deve avvenire proprio una rivoluzione, in senso individuale, in cui la persona sia veramente coinvolta in tutti questi processi. Hai già accennato alla fioritura personale, no? e al fatto che le donne spesso nella società della performance si trovano magari più in difficoltà ad alzare la mano appunto e a portare il proprio punto di vista. Con il lockdown si sono visti proprio secondo me tanti limiti della nostra società e del modo in cui è organizzato il lavoro e la mentalità anche delle persone, no? Perché le scuole ad esempio sono rimaste chiuse e questo ha mescolato sempre di più la vita privata con la vita lavorativa delle persone. Chi ha una famiglia con dei bambini si è trovato molto in difficoltà a dover gestire questa commistione di parti della propria vita, no? Nella fase di ripartenza che ci si prospetta le scuole molto probabilmente rimarranno chiuse ancora per un bel po'. E quindi questa difficoltà delle famiglie durerà e il rischio un po' è che il peso nella gestione dei figli e di tutte le attività che fanno parte della vita familiare ricadano sulle donne perché purtroppo c'è ancora questa mentalità che ci porta a pensare che sia un compito delle donne. Non sempre però in generale non ci si preoccupa molto di questa cosa. Che cosa si dovrebbe fare a tuo avviso per riequilibrare questo aspetto? Allora la cosa veramente paradossale è la grande contraddizione il fatto che noi ci troviamo in un momento in cui abbiamo delle conoscenze enormi perché anche di fronte a questa pandemia se fosse avvenuta vent'anni fa saremmo stati veramente fritti rispetto ad esso nel senso che le conoscenze che comunque sono state acquisite il fatto che laboratori di tutto il mondo stiano lavorando per capire come funziona come agisce questo virus è una grande fortuna perché appunto vent'anni fa queste conoscenze non c'erano però la cosa paradossale è che da una parte abbiamo questo dall'altra abbiamo un modello sociale spesso che ancora è estremamente legato ai ruoli e che è legato al genere che è una costruzione è cultura quindi il fatto che le donne si desiderino di più stare con la famiglia rispetto al lavoro è un fatto culturale che però condiziona anche le donne di conseguenza sì quello che sta accadendo è questo sta accadendo che sono crollate alcune come dire alcune strutture strutture anche di assistenza e quindi quello che accade è che emergono veramente tutte le cose che non abbiamo davvero cambiato quindi emerge per esempio il fatto che oggi e i dati stanno arrivando nel senso che questa cosa io ho iniziato a dirla qualche settimana fa perché avevo cominciato a percepire questa cosa adesso stanno arrivando dei dati che sono veramente preoccupanti sul fatto che le donne oggi hanno molta più difficoltà soprattutto se sono madri a gestire lo smart working perché sono orari di lavoro perché lo smart working è una cosa estremamente liberatoria lo smart working serve ad avere fiducia e responsabilità reciproca quindi se sei dipendente sei freelance tra cliente datore di lavoro e tu che stai lavorando quindi è qualcosa di veramente importante da portare nel futuro quindi il fatto che tu sei libero dagli orari di lavoro che pensi a sviluppare il progetto che sei coinvolto in quello che fai ma sei molto più libero di gestirti gli orari in questo momento dato che lo smart working viene adottato senza questa consapevolezza quindi viene appiccicato su una cultura di impresa che a volte non è così al passo coi tempi diventa reperibilità 24 ore su 24 7 giorni su 7 e tempi lavorativi molto più veloci cioè io pretendo dato che tu stai a casa che tu porti lo stesso risultato in un terzo del tempo quindi c'è una grande insofferenza da questo punto di vista se sei una donna madre questa cosa diventa ancora più forte perché contemporaneamente devi gestire i figli e devi gestire la didattica questa cosa che cosa porta porta a come dire mettere in evidenza il fatto che in moltissime famiglie ancora oggi l'uomo sia quello che lavora e se qualcuno dei due si deve sacrificare deve sacrificare il proprio lavoro è la donna che lo deve fare nell'idea che sia più portata a farlo che non è affatto vero nel senso che quindi l'idea che sia che possa essere che il carico mentale il carico di lavoro possa essere diviso in maniera equa ancora oggi è certo come dire di un'idea che hanno tantissime famiglie ma non ce l'hanno tutte soprattutto in questo caso devono essere anche le istituzioni a riflettere su questo e quindi a prevedere questo pericolo perché ovviamente il fatto che non ci sia uno strumento di assistenza per queste famiglie in particolare per le madri che rischiano di perdere il lavoro in questi mesi poi si ripercuoterà anche questo sull'economia quindi è un anche qui è proprio questa contraddizione noi abbiamo da un lato strumenti tecnologici potentissimi dall'altro rischiamo di avere un'intelligenza emotiva che non è tanto diversa rispetto a quella che avevamo un secolo fa e una comprensione delle dinamiche di persone e delle persone che non è tanto diversa rispetto a quella di un secolo fa in questo momento gli strumenti tecnologici scientifici sono benedetti sono utilissimi perché altrimenti tra l'altro ci saremmo davvero sentiti isolati in queste settimane ma non possono non andare di pari passo a una consapevolezza emotiva anche a un prendersi cura della persona quindi questo deve avvenire sia a livello delle istituzioni prendersi cura delle persone delle loro esigenze soprattutto se sono esigenze che toccano credo almeno 5 milioni di persone in questo paese e dall'altro lo deve fare l'impresa quindi se io ho un'impresa devo capire quali sono le esigenze di tantissimi dei miei dipendenti non può essere più qualcosa di marginale quindi devo domandare quale può essere il modo per come dire ricalibrare gli orari lavorativi gli strumenti lavorativi in questo anche questa la filosofia può essere utile perché ha a che fare con degli strumenti di dialogo quindi se io ho dei dipendenti delle dipendenti che in questo momento sono stressate e quando inizio una riunione io non chiedo loro che problemi hanno come stanno ma inizio la riunione e pretendo qualcosa da loro ovviamente questo creerà un circolo vizioso quindi loro saranno ancora più stressate rischieranno di perdere il lavoro ma di sicuro anche io avrò dei problemi cioè prendersi cura sembra nel nostro modello culturale in cui quello che importa è il potere gerarchico sembra qualcosa di marginale in realtà prendersi cura è una grande potenzialità cioè se io mi prendo cura delle persone che lavorano con me quelle persone saranno molto più coinvolte e saranno anche più produttive e questo per fortuna è stato dimostrato i dati di nuovo non sono da demonizzare perché i dati ci raccontano delle cose che la nostra percezione può interpretare in maniera distorta quindi magari noi sentiamo che prendersi cura non avrà efficacia ma se vediamo che ci sono dei dati che ci dimostrano che la diversità e l'inclusione l'attenzione nei confronti dei propri dipendenti aumenta il fatturato allora in quel caso magari mi rendo conto che quella cosa quel cambiamento effettivamente mi può essere utile quindi purtroppo in quel caso si ricollega comunque all'idea di di fatturato e di produttività e di numeri però può essere comunque un modo per disinnescare quella percezione errata secondo cui prendersi cura delle persone con cui si lavora non serve a niente invece è estremamente utile perché di nuovo coinvolgimento emotivo i vissuti personali entrano nel lavoro quindi non si può più parlare di lavoro e di impresa senza parlare della persona assolutamente io spero davvero che una delle cose che ci porteremo in questa valigia che stiamo costruendo oggi sia proprio questo perché effettivamente è fondamentale anche diceva prima Luciano la felicità anche delle persone poi porta a dipendenti e lavoratori più felici più soddisfatti anche quindi ad imprese che sicuramente lavorano meglio e funzionano meglio ti faccio un'ultimissima domanda che è quella che facciamo a tutti gli ospiti oggi proprio perché stiamo costruendo questa valigia per questo viaggio che facciamo verso nuovi binari ti chiedo se c'è un concetto una parola un oggetto che tu ti porterai da questo periodo e che secondo te tutti noi dovremmo portarci curiosità secondo me la curiosità è poi il motore del viaggio è la ragione per cui ci muoviamo da sempre gli esseri umani sono sempre mossi hanno sempre viaggiato e la curiosità è un grande motore di cambiamento la curiosità è anche quello che poi ti porta ad aprire la mente quindi anche a essere disposto a non avere ragione su qualcosa e secondo me questo momento in cui dobbiamo renderci conto di cercare di capire perché siamo arrivati a questo e essere curiosi anche nei confronti di prospettive diverse e essere curiosi nei confronti di qualcosa che non studiamo abitualmente quindi secondo me la curiosità è molto legata anche all'apprendimento quindi studiare magari delle cose che sono come dire distanti dal nostro ambito di studio io credo moltissimo nel potere della multidisciplinarietà quindi in questo momento la cosa migliore che possiamo fare è dialogare soprattutto se abbiamo formazioni diverse e modi di pensare diversi per cercare però di raggiungere un obiettivo comune un bene comune che è quello della comprensione della creazione di un nuovo modello grazie mille Maura io ti ringrazio tantissimo ci hai dato un sacco di spunti e ti auguro un buon lavoro e una buona giornata grazie a te grazie a tutti grazie ci vediamo presto possibilmente sul nostro palco grazie ancora